Ciao Pep, hai fatto i complimenti all'Inter, qual è secondo lei la cosa più importante che ha fatto l'Inter per meritarsi questo pareggio? Una domanda per Simone, la mia considerazione con cui la squadra è altissima, admiro moltissimo quello che fanno, perché so che si devono difendere 11 giocatori dietro, lo sanno fare, si aiutano e poi la transizione è velocissima. Ma quando giocano in Italia, quando le altre squadre difendono dietro, hanno la capacità di fare bellissimi inserimenti con sei giocatori, gli esterni, due attaccanti, due attaccanti esterni con Valeria, Miktikarian, Zilinski, Fratessi o whatever. Mi piace molto come giocano, per quello ho una grande considerazione alla mia squadra, alla nostra squadra, perché sappiamo contro chi abbiamo giocato e quando siamo capaci di fare quello che abbiamo fatto, sono felicissimo. Buonasera mister, mi consenta una piccola variazione al tema, da circa un paio d'anni in Italia si dice che Pep Guardiola ha fatto il tutto per provare a portare bastoni al City, volevo sapere se questa cosa le risulta? Non è vero. Non è vero. E poi l'ultimissima, volevo chiederle come mai, se il motivo è tattico, come mai Holland contro l'Inter soffre sempre un pochino, trova poco spazio, se il motivo è tattico o se hai quest'uomo addosso? No, soprattutto uno. Uno? Soprattutto. Oh, io vedo sei addosso, sei, tre e tre davanti, quello che vedo io, è difficile per tutti, mette qualsiasi giocatore, qualsiasi oggi, qualsiasi giocatore nel mondo che gioca lì con tre, con Pisek, Cervi e Bastoni, cinque metri, con Cianloglu, Varela e Zilinski. Inserirsi più giocatori lì, quello che avevamo fatto con Gundogan due palla che aveva avuto, con Phil Foden davanti al portiere, o transizione, ma transizione hanno più gamba di noi, le fisicalità sono più o più forte. L'unica maniera è venire a fianco di Erling più il giocatore, e aveva avuto quattro lì. Io non aspettavo, guarda, quando l'Inter difende questa maniera, o qualsiasi squadra, io non aspetto avere venticinque palle gol. Impossibile, perché sono bravissimi. Do più credito a loro come difendere o a quello noi che non abbiamo fatto bene. No, fanno. Ma l'abbiamo avuto, si riflette, abbiamo avuto. È chiaro, è chiaro, davanti. Purtroppo l'abbiamo fatto, sommere un portiere attenzionale, va bene così. Siete partita per loro, siete partita per noi, e vediamo che succede. Salve mister, lei parla di un Manchester City migliore rispetto alla finale di due anni fa. In cosa ha visto diversa l'Inter, e come mai, è vero che il calcio, la palla è rotonda, però in cosa oggi siete mancati e non siete riusciti magari a trovare quel guizzo che vi avrebbe permesso di vincere la partita? No, no, l'abbiamo fatto tutto per vincere. Abbiamo avuto più palle gol che la finale, ma la finale è diversa. Non si può separare, l'emozione, tutto è diverso. Noi giocavamo a casa, questa partita a Milano sarebbe stata diversa pure. Loro avrebbero stato forse più avanti, che ne so. Ma devo dire che loro lo volevano fare perché ascoltava la panchina, avvicinarvi, avvicinarvi a giocare, avvicinarvi a giocare. Loro lo fanno, controllano tutto. Campioni d'Italia, dai. E quando questo succede, è un grandissimo rispetto. Solo devo dire che mi è piaciuta la mia squadra, abbiamo fatto quello in questa stagione dell'anno, con settembre e ottobre, ancora non siamo al top, ma abbiamo fatto, considerando come l'Inter, una buona gara. Una questione extra, diciamo così. Tanti anni fa, dopo il triplete dell'Inter, si era detto che eri stato molto vicino poi a arrivare a allenare l'Inter. Io? Sì, si era detto. Come giocatore o allenatore? Come allenatore, dopo 2010. Dopo dove? Dopo l'anno del triplete dell'Inter, quando l'Inter ha cambiato. Quando l'anno del triplete io andare all'Inter? Dopo, dopo il triplete. Non un po' l'anno. Mai, mai, ma non ti ho avuto. In Spagna e in Italia ci erano tante bocce. Ma avremmo mai l'onore di vedere il campionato italiano da questa domanda? Mi piace molto l'Italia, ma sono benissimo qua. Il cancio inglese è strepitoso. Si diverte tantissimo uno qua. La tranquillità che un allenatore allena qua non si trova in nessuna parte del mondo. E poi la società è fortissima, quindi io mi trovo molto, molto, molto bene qui. Grazie, un ritorno a Italia.